Siamo al Palazzo Fuxas, qui alle ore 15 sarà inaugurato il nuovo hub vaccinale di Pescara e ora vi mostreremo in anteprima l'interno dell'hub vaccinale che sarà allestito qui al piano terra e quale sarà il percorso di chi verrà a vaccinarsi. Si entrerà da questa porta, qui è la sala d'attesa dove dopo aver preso il numero chi vorrà vaccinarsi attenderà compilando l'autocertificazione. Poi da qui si verrà chiamati e si seguirà questo corridoio fino alle postazioni dove si incontrerà il personale dell'ASL per svolgere l'anamnesi. E una volta completata l'anamnesi si attenderà qui il turno per essere chiamati per ricevere la propria dose di vaccino e sono qui cinque box, cinque postazioni dove si somministreranno le dosi e adesso ve ne mostreremo una. Qui verranno somministrati i vaccini, a disposizione di questa hub vaccinale ci sono sia Pfizer che Moderna e si conta di poterne somministrare dalle due alle trecento dosi al giorno dalla prossima settimana anche per la fascia d'età pediatrica, quella dai cinque agli undici anni. E qui dopo il vaccino chi l'ha ricevuto attenderà i 15 minuti che ormai conosciamo per assicurarsi che non ci siano immediati effetti collaterali. Da quella porta poi potranno uscire comodamente anche coloro che sono in carrozzina mentre da lì potranno uscire tutti gli altri perché essendoci quei tornelli la carrozzina lì non passerebbe. E così il percorso come vedete è circolare, si va in un'unica direzione e chi entra non si incontrerà con chi esce.